Salve a tutti amici e amiche di TrueGamers.it, qui è il vostro Max, pronto ad affrontare la terza missione della campagna dei vichinghi di For Honor. Legno, ferro e acciaio. Andiamo. Osservabili 5 e distruggibili 5. Ok. Realistica, come sempre. Grazie a tutti. Ok, si gioca col condottiero. Ah, con Stigandra, lo Jarl pazzerello che abbiamo salvato nella missione precedente. Ok, allora partiamo. Via. Quindi vado a conquistarmele da solo. Proprio così. Uno contro il porto. Sei proprio figo, Stigandr. Stigandr. Mi pare un po' Stigard. Ma non mi ricordo già più. Ok, colpi focalizzati. Oh, salve. Non puoi fermare il mio scudone. Ok, vediamo l'esecuzione. Cattiva. Osservabili niente? Pare di no. Osserviamo bene. Ma non vedo osservabili. Via. Odin's beard. These black stones have done a poor job of fortifying our defenses. Guarda qua. Beh. E' ne rotto solo uno. Ok, i battacchi non hanno molto range, ma... Sono appunto sì, focalizzati. Ok, salve. Vediamo se riesco a spararla giù. Sì, ce l'ho fatta. Oddio, qua è pieno di gente. Proviamo a passare di qua. Via. Ma... L'hai detto. Ok. Morto. Avanti. Giganti osservabili. Sì, questa sega gigante. Oh. Un guerriero con lo scudo come... Accidenti. Devo ancora abituarmi alla gittata corta. Ma allora... Questa parla un sacco. Questa parla un sacco. Ok, è stanco. È il momento di dargli. Ehi. Dai. Smentila di parare tutto. Fastidiosissimo. Fastidiosissimo. Muori. Ok. Questa video l'ho ottenuto. Questa video l'ho ottenuto. Questa video l'ho ottenuto. Questa video l'ho ottenuto. Almeno la sega sembrava... Si arriva da sopra, mi sa. Il condottiero può bloccare... Tutte le direzioni. Ok. Sì. Quando faccio così. Posso trovare un metodo più rapido per sconfiggere questo? Non hai più resistenza, amico. Ma... Ok, ora non ne ho più io. E la madonna. È andato in frenzi. Buono, di stamina. Sono dei combattimenti logoranti questi con i tizi con lo scudo. Guarda. Oh. Cristo. Oh. Via la testa. E ora tocca a voi. Fermate a guardare fino adesso. Ora... L'assaggiate la morte. Invece di guardarla. Maledetti, mi attaccano le spalle. Bellissimo il colpo con lo scudo. Ok. Posso passare di qua per arrivare su quel draccar. Non è osservabile. Mi pare strano. Oddio. Forza. Non venite a combattere sul ponte? Avete paura? Oddio, ma sono in tre questi. Dovrei avere io paura. Oh. Ok. Forza. Ok. Per cercare di buttarne giù uno. Ma che non ci riesco. Ok. Mi conviene entrare e cercare di buttarlo. Ecco l'occasione. Maledetto. Forza di nuovo. Vieni avanti. Dai. 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 Su. Perfino il tuo compagno ti ha colpito. Vabbè. Ma guardalo. Che viene avanti. Via. Perfetto. Andiamo in vendetta. E picchiamoli tutti. Bravo quello che arriva da dietro e li colpisce tutti. Forza. Userò di nuovo lo stratagemma. Madonna. Chi è giù. Questo non riesco a buttarlo giù. Forza. Vai. Giù. Perfetto. Sarebbe c'è il picchio. Dai. Ora che sei rimasto solo. Ok. Levatevi. Guarda questo. Mola giù. Un'osservabile. Guarda che non riesco a targettarlo. Ma. Ok. Accidenti. Non capisco come mai. Anche adesso mi ha tirato questa lagghetta improvviso. Deve essere il programma di streaming. Che ha qualche problemino. Qualche problemino di linea. Scusate per il disagio. Ok. Mori. Anche tu. E anche tu. Un distruggibile. Una cassa a voltoio. Quanta gente c'è su questo pontile. Ok. E dominare. Morire. Ok. Tu mi hai colpito ben due volte. Nanetto. Ora ti insegno io. Ecco qua. Oh. Salve tizio con guancia. Vediamo se riesco a buttare giù anche questo. Bravo. Ci prendiamo a testate e a spallate. Lui non ha consumato niente di stamina. Ok. Sei uno tosto. Vediamo quanto. Oh Dio. Oh Dio. Però eri forte Ti rispetto Ok Il punto distruggibile E apriamo il ponte ora Cioè La porta Forza soldati Prendiamo la balista E sciottiamo la gente Muoiono sul colpo Beh, un colpo di balista Ok Voglio che ammazzo i garciari Fastidiosi as always Guardalo Via in acqua Non è caduto Peccato Finiti? Ma che? Due con un colpo Ecco l'alempo Ok Eh sì Per la barba Dio Dio Però si viene in punto stretto Quindi Dovrei Facilmente poter fare così Grandissimo Let's go Grandissimo Oh L'ultimo Distruggibile Scusami Mamma mia Che pacchia che gli ho tirato Elvar Sei sempre tu Sei un grande Andiamo Vieni qua Julius Good boy Eh I combattimenti qui Sono stati veramente facili I combattimenti qui sono stati veramente facili The samurai They're weak We outnumber them Ten to one And they've had a good year We're gonna need a fleet It was time For the raid Bellissimo I vichinghi affrontano la battaglia con il sorriso e le risate Ok Come sempre non ho visto gli osservabili Ci sale di livello Ok L'hanno affilata a livello 2 E Ok Andiamo avanti Hoping for quick spoils And perhaps the glory of victory The Vikings turned their attention on their neighbors across the sea The samurai lands were guarded by an ancient sea fort One that the Vikings believed to be poorly defended I vichinghi che attaccano i samurai Wow Sono davvero curioso di Di vedere la terra dei samurai Se è fatta appunto architettonicamente come il giappone Sarà molto figo Dovrebbe essere così a giudicare dai video E dalle mob multiplayer ambientate nel mire Che è la terra dei samurai Va bene Nel prossimo video Si invadono i samurai Ok Nel prossimo video Si invadono i samurai Alla prossima Alla prossima Alla prossima